Oggi parliamo proprio di questo argomento con il professor Giovanazzi. Buongiorno, direttore della Breast Unite della Chirurgia Oncologica e Senologica del San Gerardo di Monte. Allora abbiamo visto una straordinaria Anastasia che è stata due volte colpita da un tumore al seno ma che ha risposto in maniera straordinaria a questa malattia, lottando, mostrandosi anche in prima persona e rendendosi anche portavoce di un messaggio importante. Assolutamente un eroe, direi. Una persona di grande fama che affronta una situazione così difficile riesce a superarla, un esempio per tutti. Direi che il suo aspetto personale è una bandiera per questa battaglia. Tumore al seno, tumore al seno definito anche the big killer perché è un tumore in aumento ma è un tumore facilmente diagnosticabile con la mammografia, con uno screening di prevenzione annuale, così? I numeri lo definiscono un fenomeno sociale perché i numeri sono grandi, la prevenzione però è l'arma più importante tant'è che appunto le campagne di prevenzione e di sorveglianza attraverso la mammografia sono sicuramente lo strumento più valido per affrontare questo problema e per intercettarlo nel modo più precoce possibile. Quindi diamo un consiglio a chi ci segue da casa, che cosa dobbiamo fare noi donne? Assolutamente sottoporsi a un programma di sorveglianza che va differenziato in base all'età tra i 50 e i 70 anni in Italia esiste una chiamata da parte del servizio sanitario per eseguire una mammografia biennale è importante accoppiare molte volte su indicazione anche dello specialista l'ecografia e dall'altra parte anche in età al di fuori dello screening è bene sottoporsi a dei controlli al di sotto dei 40 anni la mammografia non è indicata mentre al di sopra dei famosi 70 anni in cui si viene chiamati è opportuno recarsi lo stesso a fare dei controlli perché ad esempio io vedo spesso delle persone anziane che mi dicono pensavo che alla mia età non potesse succedere e questo non è vero, anzi in queste persone il problema si può risolvere molto bene se affrontato precocemente. Senza dottor Giovanazzi ci sono dei fattori di rischio? Chi è più sottoposto all'incidenza di tumore al seno? È una malattia ubiquitaria abbiamo osservato un maggiore rischio in soggetti che hanno una famiglia con tanti eventi e invece una certa predisposizione per i soggetti portatori di una mutazione genetica che è indagabile attraverso un test. Sono due situazioni diverse che predispongono da un lato alla necessità di maggiore frequenza di controlli sempre con metodologie tradizionali che ripeto sono la mammografia e l'ecografia ma anche eventualmente dietro ulteriori provvedimenti se previsti dai protocolli. Grazie dottor Giovanazzi, allora avete capito, seguite questi consigli e sottoponetevi sempre a mammografia e ecografia mammaria proprio per la prevenzione che è fondamentale noi lo diciamo spessissimo qui a mattino 5. Dottor Giovanazzi grazie di essere stato con noi Grazie a tutti.